Dopo 11 risultati utili di fila, l'Avellino va a caccia del dodicesimo. Domani alle 17.30 sarà sfida alla Paganese al Partegno Lombardi nel derby valevole per la 28esima giornata di campionato. In piena lotta salvezza gli azzurro stellati di Mister Di Napoli, che hanno avuto nelle ultime ore buone notizie sui tamponi, che sono risultati tutti negativi. Reduce dal pareggio interno contro la Viterbese, la Paganese ha tutta l'intenzione di rovinare il momento magico dell'Avellino. Ecco perché Mister Braia ha predicato calma e soprattutto attenzione contro una squadra che potrebbe rivelarsi velenosa per i lupi. Dovrebbe giocare nuovamente pane tra i pali domani nel 3-5-2 con Forte che verrà tenuto ulteriormente a riposo dopo il problema alla schiena. Inoltre l'ottima prova dell'estremo difensore ex Picerno in quel di Catanzaro fa dormire sonni tranquilli al tecnico bianco-verde. Non ci sarà Miceli squalificato al centro della difesa Spazio Abdossena insieme a Silvestri e Ianes. A centrocampo rientra Aloy ma non ci sarà D'Angelo. Carriero e De Francesco dovrebbero essere gli altri due interpreti ma attenzione ad Adamo che potrebbe anche far rifiattare l'ex Monopoli tra l'altro in difida. Ciancio e Tito sulle corsie esterne, davanti dovrebbe essere confermato Bernardotto al suo fianco Sant'Agnello più che Fella. Per seguire il match domani pomeriggio a partire dalle 17 il consueto appuntamento con Stadio e Studio per non perdere nulla del derby tra Vellino e Paganese.